Siamo con Vittorio Feltri, direttore di Libero, qui a Carmignano di Brenta per presentare il suo ultimo libro, Il vero cafone, edito da Mondadori. Parliamo magari un attimo dopo del libro, però oggi ha suscitato abbastanza scalpore, ha girato molto il suo editoriale anche sui social, abbiamo visto su Monte dei Paschi. L'aggancio con la situazione attuale qua in Veneto è quello della situazione di Banca Popolare di Vicenza, che oggi ha proposto di risarcire i risparmiatori con 9 euro d'azione, che è un 15% più o meno di quello che valeva l'azione inizialmente. Che cosa bisogna fare in questi casi? Qui 8 miliardi per salvare Montepaschi e poi basteranno? Il problema è un altro che gli 8 miliardi vengono sborsati dallo Stato, cioè da tutti noi, sono soldi nostri. Questi 8 miliardi vengono prelevati un po' dalle sue tasche, un po' dalle mie e dalle tasche di altre persone, degli italiani. e questo ci autorizzerebbe almeno a sapere come mai si è creato un buco in una banca di questo tipo. E io lo so perché si è creato un buco, perché numerose persone hanno ottenuto dalla banca, dal Monte dei Paschi di Siena, dei prestiti ingenti, parlo di decine di milioni, senza fornire le garanzie di solvibilità, cioè senza garantire la loro possibilità di restituire. E in effetti non hanno restituito una lira, quindi hanno frodato la banca. Ma nasce il sospetto che coloro i quali funzionari della banca, dirigenti della banca, hanno concesso questi prestiti, non dovessero farlo perché in mancanza di garanzie non dovevano sganciare nemmeno un centesimo. Perché se lei va a chiedere un mutuo per comprarsi la casa, quella sua casa viene immediatamente ipotecata dalla banca e se lei non paga una rata, la banca si prende la casa. Questo è avvenuto per lei e per tanti come lei, ma non è avvenuto per questi ladroni che hanno preso dei soldi e non li hanno restituiti. Hanno preso decine di miliardi e adesso oltretutto i signori della banca che hanno concesso questi prestiti non pagano, non hanno fatto azioni né penali né civili nei confronti dei debitori e quindi c'è questo buco che lo fanno pagare alla povera gente. Qui siamo di fronte a un disastro. Io mi fido di più della mafia che delle banche. Ecco, il caso invece di Banca Popolare di Vicenza com'è? Non è che i buchi nelle banche si creano per questioni atmosferiche, per delle calamità naturali. Si creano perché qualche idiota che comanda nella banca o è un ladro o un cretino. A volte è cretino e ladro. Ecco, la situazione politica oggi, beh, questo della finanza è uno dei temi più importanti e più all'ordine del giorno. Però il governo che c'è adesso, il governo Gentiloni, può fare qualcosa? In quanto durerà secondo lei intanto? Volevo chiederle anche questo. Io penso che il governo Gentiloni durerà fin tanto che non ci sarà una possibilità concreta di tornare a votare. Perché oggi non è possibile, non c'è una legge elettorale, c'è un disastro nel paese, quindi sarebbe veramente l'ultima delle cose quella di andare a votare. Aspettiamo che si esaurisca questa schifezza che è anche questo governo. Poi la raccino, sono in grado di fare niente, tant'è vero che regalano i soldi al monte dei Paschi, bisogna essere pazzi. Io non so se chi ci ascolta la pensi come noi, ma sono convinto di sì. Comunque il governo sta gestendo una ordinaria amministrazione e lo fa, vedremo se sarà almeno capace di fare questo o non sarà capace neanche di fare questo. Dobbiamo aspettare qualche mese. Certo è che noi stiamo vivendo una situazione drammatica in Italia. E abbiamo mandato via Renzi convinti che succedesse chissà che cosa, che si andasse a votare, che si svoltasse, e invece è peggio di prima. Questa è la verità. E quindi abbiamo fatto un gran casino per niente. E il futuro come lo vede? Oggi si parla molto del Movimento 5 Stelle per questa decisione di cambiare gruppo a livello europeo. Potrebbe essere il futuro dell'Italia quello? Ma io non ho niente contro i 5 Stelle, ma mi rendono conto ogni giorno sempre di più che sono uguali agli altri. Cioè pessimi, pessimi, perché un giorno dicono una cosa, poi cambiano idea, se la rimangiano, quindi non si capisce più niente. Laddove amministrano, amministrano male, perché non mi pare che il Comune di Roma sia un esempio di buona amministrazione. È una cialtronata romana e basta. In altre città, forse a Torino, io conosco poco la situazione torinese, le cose vanno un po' meglio perché l'Appendino, che è già un cognome che mi fa di nervi, l'Appendino ha ricevuto in eredità un'amministrazione comunale che era decente, mentre la povera Raggi ha ricevuto in eredità un'amministrazione che non era neanche un'amministrazione ma un casino. E quindi poveraccia se trovate in difficoltà. Comunque, i 5 Stelle sono degli asini esattamente come gli altri partiti che non mi pare brillino in modo da ottenere la fiducia dei cittadini. Ecco, in tutto questo l'Italia, ne abbiamo parlato dal punto di vista politico e anche economico, finanziario, è messa così. Il caffone in tutto questo che cos'è? Cosa c'entra? Dove si annida nel giornalismo, nella politica? Intanto devo dire che questo libro è un divertimento. È, diciamo così, un galateo al contrario. Siccome tutti ci insegnano come dobbiamo comportarci, io invece insegno come non dobbiamo comportarci. nel senso che osservo la realtà e la racconto. Ma l'ho fatto per gioco, per divertimento. Ma il primo caffone sono io, perché in tutti noi, in tutti noi c'è un caffone dentro di noi, col quale combattiamo quotidianamente e spesso vince il caffone.